Guardate che scempia, tipico della sinistra, eccola qui, la sinistra in brattone alla quale la giunta travicella di Tommaso lascia i muri di Fraschetti, a chiacchiere si definiscono ecologisti, tutori del verde, zarati, la tutela delle acque, ma sono credibili questi, noi ecco qui, 5 anni mare, grazie a 430 milioni di Euro investiti per impianti di depurazione, c'è ancora da fare, certo c'è da mandarvi a casa, noi il 28 e il 29 voteremo per Adriano Palossi, perché la lista verrà riammessa, perché non c'è motivo di non permettere ad una lista che era all'interno del tribunale di essere esclusa, sorry, voteremo Adriano Palossi che rispetta i nostri luoghi, Montino e Zarati, trombati di lusso.